Che ci fate qua? Non sapevo cosa fare A me mi avete pagato quindi Che senso l'avete pagato? La tendenza costa Leo Eh, se vuoi domani ti porto un listino prezzi Nome? Stefano Leonardo, cognome? Lever, non pervenuto Nickname su YouTube? Capitan volante Lever Leo, età? 20 23, titolo di studio? Perito industriale, il liceo musicale da quando titolo di studio Non ho chiesto l'obby Posso dire la ricetta di terza media, faccio più bella figura Eri bullo o bullizzato? Nessuno dei due Alle medie bullo? Non ci crede nessuno Adesso mostriamo la foto di Leo I capelli corti alle medie e ditemi come Possa essere bullo Alle medie era una testa di cazzo, cercavo in tutti i modi Infastidire chiunque La parolaccia che usi di più? Dio c***o Cazzo penso Che è quello che ti piace Bevanda preferita? E la benzina senza piombo Bevanda preferita per davvero? E il tè al limone La birra Lever, non sei credibile Come ti vedi tra 17 anni? Morto In galera Fobie? E fino a qualche anno fa lo triplofobico Hai paura del tre? Paura del triplosette? Triplofobico Pavoro dei buchi Cosa? Ticcoli buchi vicini Cerca il triplofobico e ti fa schifo anche a te Nio nessuna Cazzata più grande e fatta? Nessuna in particolare La volta in cui ho sboccato sul cane Ma non lo saprete mai Sporti Il tuo video preferito registrato con camper e spawn? Penso il primo e unico flash queen La tavernello challenge Youtuber che stimi? Season Me stesso Non sei uno youtuber? Ha 11.000 iscritti e non ha video Youtuber di tutti noi messi assieme Youtuber che disprezzi? Chiunque faccia lo youtuber proveniente da un altro social Tizio 20 Non è vero, non li disprezzi? Come youtuber sì Youtuber che vorresti vedere ai lavori socialmente utili? I commentatori, gli opinionisti E chi fa drama Quelli soprattutto Quelli che fanno i musicali? Youtuber che dovrebbe essere nato in Germania nel 1940 E con la religione sbagliata? Gli tesi di prima Beh, nato nel 1940 in Germania Leo Mates o Illuminati Crew? Mates tutta la vita Sì, Mates tutta la vita Mates o Melagodo? Mates tutta la vita Mates tutta la vita Mela Godo o Illuminati Crew? Mates Mates tutta la vita Lever o Leo? Mates Camper o Spawn? Tizio 20 Uno scarso Dai, sul serio Nessuno dei due Sono un paraculo E' come la mamma e papà Non è che vuoi più bene uno o l'altro Perché vorresti morti entrambi? Credi in Dio? No Un buono botto Nell'oroscopo? Nemmeno No Omeopatia? No E' quella dei fiori? Allah? No Beh, è grande Quindi come puoi non crederci Buddha? Sì, è un botto Sì Lui è figo Brahma? Chi? Shiva? Chi? Vishnu? Cosa? Non ho capito Indra? Cos'è? Gioco il milionario con me Di dei Mitra? Non è un mitragliatore Surya? Ma conosco Ma appena il mio di Dio Vuoi che sappia anche quelli degli altri? Ho fatto ottona in scuola di cattolica Non in scuola indiana o buddista Per centomila euro Ti faresti sparare in una gamba? Dipende dove Esatto, anch'io Sul polpaccio? Sì, volentieri Io sull'arteria Non l'hai fatto Proprio un genio Daresti il culo? No Per centomila euro? No È il mio, ti faccio quello che voglio Non ho tendenza omosessuale Lo metteresti in culo? Dipende a chi A un uomo Ah, un uomo o no? Eh sì Eh, eh, vai qua non c'era Lo metteresti in culo a un uomo? No Quindi neanche se è malgioglio? Eh, malgioglio No, nemmeno Ti faresti sparare in una gamba da malgioglio? Beh, sì Perché? Basta che sia preciso dello sparare E poi va bene Se prende sempre l'arteria va bene A lui piace morire Come vi siete conosciuti? Chi se lo ricorda? All'evento Verona? Probabile Passi all'evento di camper a Verona Ho conosciuto camper a lì per quella volta, penso, sì Prima impressione? Porca puttana quanto grande è? Ma chi se mi ricorda che cosa ho mangiato a pranzo? Vedete che mi ricordo un'impressione? Descrivi il compagno con tragettivi Ritardatario, autistico, inaffidabile Armadio Mimoso Onnipotente sulle tendenze La prima cosa che fai al mattino? Mi sveglio Piango Oppure il respiro C'è anche quello Quello io cerco di no Ah ok Di un difetto dell'altro Lever è sempre in ritardo Cosa? Bugiardo È ritardatario Autistico Autistico E inaffidabile Ma ha anche dei difetti Ma ha anche dei pregi forse Ma può essere anche restritto con altre tre parole Di un pregio dell'altro Non lo so Non ho voglia di pensarci Non è così difficile Avetevi gli occhiali Non è vero Attenzione Devo cambiarli Attenzione Ho detto una palla È alto È creativo Perché non fai video su YouTube? Perché io ho già troppi soldi di mio Perché non ho voglia Hai mai scoperto i tuoi scopare? No No Ci sono separati quando avevo 5 anni quindi Hai mai scoperto tua madre e il tuo compagno scopare? Il tuo compagno Gli ho sentiti Ma non lo scopero No 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 Quanti anni avevi? 15 Sei rimasto traumatizzato da questa vicenda? Non sono più cresciuto da allora Ah si vede Sei diventato sessofobico dopo questa vicenda? Che schifo la figa Ricordi il tuo primo video? Il mio primo video Penso c'è stato un montaggio con dei miei amici In cui su una gomma dell'auto Eravamo attaccati dietro un'automobile che andava sulla neve Giravamo? Ah no il mio primo video su YouTube è stato con un mio amico Un Alem Shake Il primo video sui Noob Channel? Cos'è? La tele ribalazzante? Diciottesimi io penso Sì È ancora presente questo video sui Noob Channel? No No Chissà perché Com'è stato rivederti per la prima volta su YouTube? Strano Ho tipo detto tre frasi in 20 minuti di video? Si vede come sei portato Un super potere che vorresti avere? Fermare il tempo L'invisibilità Se tu fermi il tempo però non mi vedi Eh Ma mi fermo io vado a farmi in giro Tiro farina su tutto il mondo di chi non ti amo Quanta importanza dai da 1 a 10? 8 Ai preliminari? 8 8 e mezzo Siamo uomini 6 6 qua Quali preliminari? Ma si dette i preliminari? Ma entro in macchina preliminare Alla durata? 10 10 Al fisico di lei? 9 8 Ai soldi? 12 8 Alla salute? 2 3 3 Ma perché? Io sono uno che se si ammala non prende medicine Se deve andare dal medico se lo dimentica La mia salute me ne frega il cazzo Io ormai domani muoio quindi All'amicizia? 1 Non ho amici 9 Ho 9 amici 9 All'amore? 6 7 Al sesso? 10 10 Che voglio trovare un uomo che dice 1 Non mi piace Che schifo la figa Se vincessi 10 milioni di euro Cosa compreresti come prima cosa? In generale immobiliare Investo in immobiliare Io investo tutto in fidget spinner e bitcoin Ma mi sa che un po' tardi Dici? Secondo me posso ancora farcela Leo Leo Metti i tutti sul rosso Magari lo addoppiero Ma li metto tutti in Rio Point Entreresti nella casa del grande fratello? Sì per fare l'elicottero col cazzo il primo giorno e bestemmiare Con un fucile a pompa volentieri Hai mai picchiato qualcuno? Una volta in strada uno che mi ha aggredito Sì uno Non ho una storia Brissarissa no Spintoni e parolazze sì Un ricordo divertente con Spawn La tipa mega figa nella sauna Ho una memoria che fa schifo Quindi non lo so Un ricordo divertente con Camper Il marocchino sul treno Mi ritorno davvero in treno Domani ti svegli freddo E' morto A chi l'ha detto? Non al conducente Neanche a noi Di che morte vorresti morire? Noverdose Buttandomi da un aereo Categoria dei film porno preferita Gay Blonde Penso sì Le bionde Le bionde ispirano sesso Non potete dire di no Tu non ispiri sesso Leo Le bionde ho detto I biondi ancora sesso non me lo ispirano Descrivi questi personaggi con una parola Giulio Cesare I dadi Accoltellato No ma tu dovresti dire La purata dei buchi piccoli Ma tappaculo Gigi D'Alessio E' brutto Capodanno Rosario Muniz Chi? E' quello della figa del culo? Sì Ah che schifo Reckless Ma al compleanno quando è? Gizzucche Rovazzi Genio Migliore amico di Federic95ita Io Tobi Noioso Penny 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 YouTube fa cagare Noioso Penny 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 Cos' Il dio di youtube Italia che ci vendi gratuiti da youtuber venduti Capobastone Dio Serpente Ha creato E' una bestemmia Si definisce così però lui E' una bestemmia E' il dio Serpente Allora Ha creato il mio nickname quindi non posso dirgli niente Master Sasori Il best youtuber che seguivo 2011 Andato perso Dexter Non guardo i video mi spiace Minorenni Favij Soldi L'amico di Pietro Pietro L'amico di Favijay L'amico della Sabri Gamer La Sabri Gamer L'amica di Pietro L'amico dell'amica di Favijay Anima Il tipo che si scopa l'amica dell'amico di Favijay Logan Paul Suicidio Oh I see a dead man in the forest Tony F Swag E' quello che ha il 17 qui? Si Mamma mia idolo Videogioco preferito Imperium League of Legends Hai dei segreti? Si Un sacco Ne vuoi dire uno? No Perché no? Perché sono segreti per un motivo Perché dovrei uccidervi e non ne ho le facoltà in questo momento La cosa più stupida che hai comprato? Una radio da 200 euro che però non entra nella punto Un set di cacciaviti Per colini Perché è stupido? Non lo so perché non mi ho mai usati Magari mi servono Mai usati Ma hai fatto sport? Ho fatto 11 anni di nuoto Io facevo tennis agonistico Si ma è uno sport il tennis però Come no? Quando? Da adesso Hai mai avuto un profilo netlog? Si No Come no? Troppo giovane Come si chiamava? Non è forse l'eo 94 brù? No si chiamava Bagigia 94 Ma è vero Non è l'hub quello Anche Ah giusto Non è essere coi aventi Un video che cancelleresti? I vostri Tutti Mio o su tutta YouTube Italia? Quello che vuoi Uno tuo e uno di YouTube Italia Uno mio Poi ce ne sono che cancellerei Ma ne ho completamente pochi Che poi resta senza Abbasso il 10% dei tuoi video Si abbassa Su YouTube Italia non so Ce ne sono anche di tantissimi E richiedete dei like Quanti facciamo? 50.000? No Non vedo abbastanza like da qua 60.000? Si Ok 60.000 like Intervista quadrupla Con Yeah Noob Levere Leo Yeah Sei felice? Un botto Battete le mani Due volte Oh figata Batti le mani Ciacca di dita Un urlato Tutto la vita Batti le mani Con una frequenza Di più di 10 battiti al secondo Autistico Però ce l'ho fatta Fate un outro Per chiudere questo video Vai aduce Vai aduce Vai 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 Vai